Il mattatoio comunale riguarda tutti tranne il comune di Pescara. Sembra una beffa ma è così. Chiuso definitivamente dal 5 gennaio scorso, la struttura è tornata nella piena disponibilità del proprietario ambiente, partecipata tra l'altro del comune in seguito a una sentenza. Punto di riferimento per tutti gli allevatori dell'entroterra che necessitano un giorno sì e uno no di procedere all'abbattimento e alla prima macellazione. La struttura prendeva in carico circa 26.000 capi l'anno tra ovini, caprini, bovini e suini. Ora come ora gli allevatori si stanno adoperando per andare sui mattatoi privati che ce ne sono sul territorio, su tutto il territorio abruccese anche qui in provincia di Pescara, naturalmente con un aggravio di costi perché il trasporto naturalmente soprattutto oggi che con il caro gasolio il trasporto incide moltissimo anche perché abbiamo una rete di viabilità piuttosto, chiamiamolo così, non soddisfacente a un trasporto veloce e soprattutto risparmiando sul carburante. Quindi il futuro degli allevatori purtroppo è incerto. Un futuro incerto soprattutto ora che incombe anche la crisi di mercato sulla carne insieme al caro gasolio e al caro energia. Ora come ora a fianco dei nostri allevatori noi proviamo a sensibilizzare il mondo del governo regionale il quale si è sempre dimostrato a fianco di noi e soprattutto a fianco degli allevatori. Stiamo sensibilizzando la parte pubblica, anche il comune di Pescara, sebbene sappiamo che ora come ora la proprietà del mattatoio, dell'attuale mattatoio, è una proprietà che non ha addirittura statutariamente non ha nessun titolo per fare. Però ora come ora cerchiamo delle soluzioni sul territorio, non solo del pescarese ma nell'ambito di questo territorio trovare delle soluzioni per i nostri allevatori. E gli allevatori sollecitano la riapertura del mattatoio di Pescara perché le soluzioni di tampone nei piccoli centri di macellazione come il mattatoio di Rosciano, che potrebbe riaprire a breve, non sono sufficienti.